La Regione Calabria si prepara ad affrontare la scadenza del 20 febbraio, dove è prevista la firma dell'accordo di coesione con Palazzo Chigi, a fine di ottenere la quota regionale del fondo di coesione. Nonostante le difficoltà incontrate finora, la Regione Calabria con il suo presidente Occhiuto si dice pronta a completare il processo, avendo già provveduto al caricamento di tutte le schede tecniche necessarie. Il governatore Occhiuto ha intensificato gli sforzi per garantire il successo di quest'accordo, intrattenendo una serie di incontri con il ministro Raffaele Fitto. Una volta conclusa la trattativa, l'ultima firma necessaria sarà quella della premier Giorgia Meloni, come già avvenuto per altre regioni. La Calabria punta ad ottenere una quota di 2,2 miliardi di euro dal fondo di coesione sociale, destinati ad una vasta gamma di interventi, tra cui infrastrutture, servizi idrici, beni culturali, ambienti e dissesto idrogeologico. Questo importo include anche i 300 milioni di euro per la realizzazione della ponte sullo stretto e che qualche settimana fa aveva suscitato ampie polemiche. Sorge inoltre qualche preoccupazione riguardo le clausole inserite in alcuni accordi di coesione già firmati in altre regioni, che prevedono il definanziamento delle risorse non spese entro l'anno preso in esame. Ciò potrebbe portare quindi ad un trasferimento di fondi dal Mezzogiorno al Nord, alimentando timori tra le regioni meno sviluppate. Il ministro Fitto ha comunque rassicurato che non ci sarà alcun trasferimento di risorse da un territorio all'altro, tuttavia il processo di negoziazione rimane delicato e richiede la massima attenzione. Il fondo di coesione rappresenta infatti uno strumento cruciale per promuovere lo sviluppo economico e sociale delle regioni meno sviluppate, continuando il percorso iniziato con i fondi per le aree sottoutilizzate, i cosiddetti FAS del 2003.